Raga, blog veloce. Allora, praticamente Coppobuce sta facendo un'offerta illimitata, come dissi. E ho scoperto il tetto è molto più... è molto medio dell'infinito di Vodafone. Perché? Su un punto, su un altro no. Vodafone ti dà massimo 500 giga. Per ogni mese cambiano. Molte ne danno 200 al mese. Molte ne danno 300, molte 500, molte 400 pieni. Invece Coppobuce ti dà sempre e soltanto 500 giga, con queste giga illimitati, e una volta superati ti rallentano a 56kb. Però 500 giga, il tetto fisso è abbastanza alto, considerato che è un'offerta solo per smartphone. Mezzo tera a 9,90 euro non te lo dà nessuno. A prescindere. C'è lo switch sia da Team che Vodafone. Praticamente non è una fusione tra Team e Vodafone questa operatura. Cioè, si appoggia sostanzialmente a Team. Però se non trovi il segnale di Team, se è compatibile con... cioè dove stai... C'è il rack sharing di Vodafone. Cioè nel senso, se non prendi Team, ti fai il rack sharing di Vodafone. Cioè non è un segnale fuso, come Wind 3. Però... è praticamente solo 500 giga e ti rallentano, dopo hai superati, 56kb. Davvero pochissimo. Però, valutando il fatto che il tetto è fisso, qualità-prezzo, un'offerta così non trova da nessuno. Però cos'è che non mi piace? Se tu non ricarichi per 30 giorni, dopo una ricarica o qualcosa del genere, la SIM e offerta te la tolgono. E su questo non sono d'accordo. Allora, cos'è che tendevo prima di dire sul Vodafone? Vodafone, l'infinito, ti cambia il tetto. Addirittura ti riduce la velocità variabili, in basso al tuo consumo. A me questo mi fa arrabbiare, perché Mo64, Mo600, Kb, Mo32, che roba è... E molte altre volte, ti può capitare che addirittura ti blocchino totalmente il servizio. Internet in generale, l'infinito di Vodafone funziona così. Invece il coppo voce è più elastico. Praticamente, una volta raggiunto la soglia di 500 GB, la velocità sarà ridotta a 56 Kb con questa offerta. E raga, io me la faccio, la testo e vi faccio sapere, anche se questa cosa sarà buttata a vuoto. Perché? Perché anche se poi vi dico, è buona, dopo questi tre giorni, che ci mancano ancora tre giorni, oggi che numero, eh? Fino al 28. Oggi è il 25 novembre, fino al 28 novembre c'è tempo. Però, io questi quasi me la faccio. Perché non avendo il Wi-Fi a casa, mi occorre un'offerta con giga limitati. Guarda, da 9.90, quasi quasi, dai, proviamolo, dammi una possibilità. E vi faccio sapere, dai. Speriamo bene, ma, che non fare un mellessimo buco nell'acqua, come si dice, un salto in vuoto. Speriamo bene.